ovviamente questa post in questo momento non è tipizzata quindi se andiamo a vedere quello che ci ritarna a questo è un observable di never quindi noi lo andiamo a cassare noi sappiamo già dallo swagger che cosa ci ritorna lo user dto user envelope envelope quindi user dto user envelope e ovviamente diciamo che questa post ritorna qui così nella subscribe se ci potesse tornare utile e sicuramente ci torna utile perché questa post in irs ci da il token potremmo già automaticamente loggare l'utente il meccanismo di autenticazione di questo back end e di questo progetto è fatto tramite token non bearer token quindi non il gvt è un semplice token generato per l'utente e che permette di fare le chiamate autenticate quindi è molto semplice come meccanismo di autenticazione ovviamente adesso qui abbiamo la registrazione ma ci servirebbe anche la login ora visto che voglio usare sempre lo stesso componente andiamo a fare un po' di andiamo a fare un po' di modifiche ok la prima modifica che andiamo a fare è quando io faccio sign up voglio tornare sulla home page quindi in questo momento non conosciamo i route quindi andiamo a creare un nuovo file navigation .service .ts è un servizio che gestirà al momento per noi la navigazione tra le pagine navigation .service ok lo andiamo a creare in questo modo tramite questa funzione tramite questo servizio potremo passare da un componente all'altro poi la prossima lezione andremo in routing quindi lo casseremo qui a questo punto facciamo un export type pages è uguale qui definiamo le pagine abbiamo la home al momento abbiamo la register la register register e poi abbiamo vabbè per il momento queste due abbiamo tanto la home e la register ok quindi qui questo navigation service facciamo un page to view è uguale a signal di pages e la prima pagina che vogliamo andare a far vedere è la home come vedete definendo il type in questo modo mi da le property da poter far vedere come valore di default una volta che abbiamo creato questo servizio andiamo nel nostro app component lo andiamo ad iniettare qui dentro quindi questo componente gestirà la navigazione quindi andiamo a fare navigation e vabbè navigation uguale a inject navigation 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 service abbiamo definito navigation ok quindi oh che fa vai abbiamo definito questo service ora tramite questo service andiamo a gestire la navigazione tra i componenti quindi che andiamo a fare andiamo a fare un bel switch qui se ce la faccio pioccio la switch navigation punto page to view qui andiamo a fare il primo case e il case il primo è l'home che dobbiamo far vedere nell'home l'app home dopo di che il secondo case è il register e qui che facciamo vedere il nostro app out quindi adesso abbiamo questa navigazione quando andiamo a premere questo ad esempio sign up vogliamo farlo portare alla pagina di registrazione andiamo a modificare quindi il nostro componente header eccolo qui facciamo la stessa identica cosa andiamo a importare navigation service uguale inject navigation 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 service ora andiamo a vedere le funzioni mettetemi con il sign up facciamo il click uguale on sign up e andiamo in app e andiamo a creare il metodo nell'on sign up che facciamo vis.navigation service .pagetview .set con il sign up andiamo nella pagina di registrazione andiamo a salvare e a questo punto se io premo sign up non ho salvato l'html sign up mi porta alla pagina di registrazione abbiamo fatto una specie di routing molto casareccio niente di più niente di meno la prossima volta e con la stessa form vogliamo fare anche la login per questo l'ho chiamato on registration e via dicendo quindi che facciamo creiamo un altro servizio nel service che chiameremo anzi no lo facciamo nelle user service quando andiamo a registrarsi come abbiamo visto abbiamo il token il token lo vogliamo memorizzare da qualche parte quindi questo user service potremmo chiamarlo account service in realtà nel progetto di riferimento che ho l'avevo chiamato account service vogliamo memorizzare questo token e quindi questo user service gestirà anche se l'utente è autenticato oppure no ok quindi se ha fatto la login oppure no quindi qui andiamo a definire il token che facciamo andiamo a fare una get e una set del token in questo modo andiamo a riformattare un attimino il codice quindi nella set se viene definito il token nel local storage andiamo a settarlo altrimenti lo andiamo a cancellare nella get e ci ritorna soltanto il get token nel caso in cui ci sia oppure un null molto semplice quindi qui una volta che viene fatta la post facciamo una pipe un bel tap in questo caso usiamo il tap quindi res facciamo this.token uguale a res .user.token qui mi dice che vuole uno string undefined quindi punto di domanda undefined no non gli piace string null scusate null quindi il token avrà o il token che viene passato dalla registrazione o null già che ci siamo facciamo il metodo di login che lo vediamo qui nello swagger se questo era la registrazione scusate andiamo qui lo chiudiamo abbiamo il metodo di login che vuole la login abbiamo login user dto user envelope e login user dto e come vi ho fatto vedere prima li abbiamo già generati qui quindi andiamo nient'altro che a copiarceli allora questo qui è la login user dto quindi questi due andiamo a prendere prima questo lo mettiamo sempre qui per comodità poi eventualmente possiamo anche spezzare i vari file andiamo a prendere questo e li mettiamo qui li salviamo qui a questo punto creiamo il nostro metodo di login quindi login come l'avevo chiamato si login vabbè facciamo login come possiamo chiamarlo body dei punti login user dto qui vediamo poi cosa è abbastanza lo vediamo subito nello swogger ci dice che viene ritornato lo user dto user envelope quindi facciamo che questo è un observable di user dto user envelope notate la login ritorna lo stesso oggetto della register quindi significa che possiamo fare l'auto login una volta che l'utente si è registrato qui dobbiamo invocare ovviamente la chiamata user login ragazzi io lo sto facendo mettendo sempre la stringa http ovviamente sarebbe da configurare perché magari in dev punto al local in produzione punto un altro indirizzo in questo momento stiamo bypassando tutto questo però se vi ricordate la lezione sui services come si fa l'injector vi avevo detto come poter fare ad esempio l'iniezione del base url quindi users login qui dobbiamo andare a creare un bustamento data dei punti user come si chiama login login user dto user envelope qui vabbè qui abbiamo user due punti body anzi visto che si chiama user facciamo user così non dobbiamo ridiplicare e qui chiamiamolo envelope come dall'altro perfetto una volta se l'utente riesce a collegarsi avremo il token adesso mi manca solo di andare a customizzare la login quindi andiamo nel nostro componente nella nostra pagina di out questa pagina gestiva la registrazione ma in realtà vorrei gestire anche praticamente vorrei gestire anche la login quindi che faccio qui non è proprio bellissimo però è funzionale non mi andava di creare un altro form solo per fare la login in realtà forse sarebbe più corretto ma siccome i parametri sono sempre gli stessi vi giudate sempre lo stesso è finito far così qui immettiamo una variabile di input che ci dice è di sign in oppure no perfetto quindi is sign in form a questo punto qui lo user service ce l'abbiamo vediamo un po' eh si ci facciamo anche iniettare private navigation service uguale inject navigation service perché mi faccio portare a navigation service perché abbiamo detto quando mi registro quando faccio la login automaticamente riportami nella home page ad esempio quindi navigation service mi servirà perfetto a questo punto eh quando siamo nella login avremo soltanto email e password quindi la prima cosa che andiamo a fare è nell'html qui se il form if come l'abbiamo chiamata la variabile is sign in form quindi se di sign in se di sign in mi interessano questi due campi e se invece di registrazione voglio far vedere gli altri quindi lo username mi serve soltanto quando siamo in registrazione quindi not is sign in facciamo dello username ovviamente qui mi dice che la property is sign in form bisogna metterla perché è di tipo required quindi andiamo nell'app component html eccolo qui abbiamo messo qui quindi is sign in form false e andiamo creare nella nostra page to view nel nostro tipo andiamo creare register ci mettiamo anche la pagina di login perfetto quindi nell'app qui facciamo un altro case qui vedete è tutto tipizzato login il sign in form false è true perché la login sarà la login andiamo a sistemare un attimo anche leader perché ovviamente quando abbiamo l'intestazione dobbiamo sapere se far vedere il sign up e quindi i settings o pure no ma mi serve sapere se l'utente è collegato o pure no ma su account service avevamo su user service avevamo questa variabile token che nel caso in cui sia null non siamo loggati nel caso in cui mi ritorni qualcosa siamo loggati quindi andiamo nel leader abbiamo già importato no quindi qui facciamo user service uguale inject user service quindi nel leader allora new post dobbiamo farlo vedere se l'utente è collegato if user service punto token allora se c'è il token possiamo farlo vedere quindi non siamo logati è scomparso poi se non siamo collegati facciamo vedere sign up questo lo facciamo vedere se siamo collegati se non siamo collegati possiamo far vedere il sign up e a questo punto vediamo se l'html list ce l'ha dato qualcos'altro no ce l'ha dato sotto l'home facciamo un altro modo metodo on sign in quindi sign in quindi andiamo a creare questo metodo andiamo a vedere eccolo qui nell'on sign in che facciamo nell'on sign in facciamo page to view eccolo qui quindi copiamo questo e non sarà register ma sarà login salviamo il tutto magari anche formattiamo un po' il codice quindi abbiamo il sign up mi fa la registrazione il sign in mi fa vedere le mail e la password ovviamente questa scritta dobbiamo cambiarla andiamo a fare questa modifica veloce veloce quindi abbiamo have an account ovviamente qui facciamo un bel click uguale mi sa che il navigation sull'out component vabbè andiamolo pubblico quindi navigationservice punto page to view punto set qui diciamo questo è ha in come vedere ha in account quindi dobbiamo andare a vedere la pagina di login ok quindi se io clicco sign up sign in mi ha portato qui ovviamente questo lo devo far vedere quando sono nel form di sign in quindi se siamo sign in in un account funziona non so perché ho perso il centramento perché abbiamo cancellato troppo abbiamo cancellato troppo eccolo qui facciamo l'incolla ok sign up have an account need an account vedete cambia il componente quindi sign up sign in vabbè bisogna cambiare anche il bottone lasciamo perdere dai se no non riusciamo andare avanti quindi quando siamo con il form di sign in ovviamente se io adesso provo a scrivere qualche cosa a parte che qui c'è un email il bottone non si abilita perché perché nel nostro componente abbiamo lo username di tipo required ok quindi dobbiamo fare in modo che quando siamo nel form di login praticamente questo validatore venga eliminato quindi che facciamo creiamo una funzione quindi controls perché username no ah perché non è tipizzato quindi controls annullable fatemi vedere perché questo qui è un form di group di tipo any vabbè facciamo così get mettiamo tra apici remove validators sul punto di domanda qui la stessa identica cosa quindi cosa abbiamo fatto che quando siamo nel form di sign in quando qui verremo passati il form di sign in diremo che di rimuovere il validatore sullo username altrimenti lo aggiungiamo quindi qui nel form group in questo momento lo lasciamo che tanto non ha non ha problemi a questo punto vi faccio vedere una cosa del signal possiamo fare un effect lefted su cosa lo facciamo lo facciamo sul signal di is sign in form quindi const is sign in uguale vis.is sign in form e quindi qui abbiamo se siamo nella forma di login oppure no e a questo punto qui possiamo fare un vis.update is sign in a questo punto se andiamo su sign up se io qui metto aaa a a.it qui ci mettiamo una pass stabilità ricarichiamo sign up andiamo su sign in e vediamo se funziona a.it demo diamo uno non funziona fatemi vedere perché 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 ah giusto e questo qui viene invocato soltanto quando c'è un cambiamento andiamo a implementare on init implements on init andiamo a implementarlo nell'on init abbiamo la valore già settato quindi facciamo così senza l'effet in realtà l'effet non ci serve perché sarà sempre lo stesso componente sign up have an account a.it demo demo 1 e vedete è stabilita adesso faccio sign up mi dice che non va che non va bene perché perché quando andiamo qui stiamo ancora invocando la register quindi mi dice che non va bene vedete mi ha dato un errore a console se siamo nel formato sign in dobbiamo fare la login altrimenti dobbiamo fare la registra quindi nell'es siamo nella registrazione nell'es siamo nella registrazione altrimenti siamo nella login quindi const user data dei punti login user dto è uguale punto 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 vis punto frm grp punto value vis punto user service punto login e lo user quindi user data punto subscribe res e qui facciamo un console punto log di res andiamo a vedere a questo punto sign in mi porta nel sign in qui a chiocciola punto it demo demo 1 sign up un possible request andiamo a vedere che succede andiamo a vedere se il payload che gli passiamo è giusto non è giusto perché gli passiamo anche lo username quindi qui che dobbiamo fare dobbiamo togliere via lo username sentite facciamo così facciamo così quando siamo nell'update vabbè ci sono tanti modi per sistemarlo facciamo la comoda più semplice dai qui facciamo l'email non ho questo questo siamo giusti si stiamo facendo l'alloghi quindi facciamo così quindi email 2.vis.frmgrp get anzi punto value punto email poi password vis frmgrp value password andiamo a vedere se adesso funziona a chiocciola punto it demo demo 1 sempre questo di vero non mi ricordo se la password era giusta andiamo a fare un sign up quindi chiamiamolo fabio f chiocciola f.it demo demo 1 sign up mi ha registrato sono registrato andiamo a vedere l'application lock a storage abbiamo salvato il token teoricamente nel lock a storage eccolo qui stranamente questo non è cambiato vabbè facciamo sign in f chiocciola f.it infatti f chiocciola f.it abbiamo passato la password e ci ha logato la response e ci ha dato lo user con il token che noi andiamo a salvare ora qui c'è ancora qualche problema andiamo a sistemarlo quindi qui cosa abbiamo fatto abbiamo detto quando c'è il token facciamo vedere new post settings ovviamente questo qui è nell'es che se siamo logati questa cosa qui non ci serve più quindi la spostiamo nell'es andiamo a salvare se siamo logati vediamo new post settings aggiungiamo anche la possibilità di sloggarci quindi andiamo a copiare questo ok on sign out sign out declare ok this punto user service punto token uguale a null se vi ricordate con null facciamo un remove dal lock storage andiamo a salvare il tutto andiamo a vedere se funziona sembrava di aver messo anche il log out eh sì magari se lo metto nel posto giusto quindi abbiamo new post settings sign out se io faccio sign out ha cancellato il token e mi ha sloggato se faccio sign in f chioccio la f punto it diamo demo 1 sign up che cosa gli ho passato eh demo demo 1 sign up adesso si è logato e non modifica questo andiamo a vedere per quale motivo una volta che faccio la login quindi vado qui la login l'ha settata il token l'ha cambiato quindi il token ne è settato adesso bisognerebbe andare a vedere però non vi voglio far perdere tempo ulteriormente ora ciao